Siamo qua alla Timpa 10 Reale che facciamo vedere, assieme al nostro nocchiero che oggi è Rosario. Dove stiamo andando? Questa è un'immersione innovativa, questa volta andremo in un relitto dell'ultima guerra e si tratta di un mercantile che è qui a 40 metri. Questo relitto come si chiama per dare un'indicazione ai nostri ascoltatori? In origine era una nave francese, si chiamava Azzurro, poi fu requisita dalla reggia marina italiana con il nuovo nome di Teoni. Perfetto, quindi è un relitto praticamente quasi sconosciuto, non ci siamo mai stati. Non ci siamo mai stati. Allora scopriremo anche questo nuovo relitto e ne faremo partecipi i nostri fedeli ascoltatori. Buone bolle! Buone bolle! Buone bolle! Grazie a tutti. Grazie a tutti.